A 18 anni mi sono preso il promo di geometra e ho iniziato a lavorare in famiglia. Lì ho iniziato a conoscere la plastica, così chiamata. La papà aveva comprato una macchina per fare le serrande in plastica e io mi ero appersonato a questa tecnologia. Per tanti anni poi ho sviluppato l'impresa assieme alla famiglia, finché circa 10 anni, forse 6-7 anni dopo, non sono apparsi i primi tubi che cominciavano a irrigare i primi vigneti in un modo che non era oggi la goccia di cui noi siamo oggi leader. Quindi da lì abbiamo iniziato a fare i primi tubi di polietilena, abbiamo fondato la società che oggi si chiamava Sivlast, di cui io sono stato il socio di maggioranza. L'idea era quella di sviluppare il mondo dei tubi, ma non sapevo ancora bene cosa significasse irrigazione, ma sapevo che bisognava portare l'acqua in qualche punto dove una pianta ne aveva necessità. Allora era l'efficienza soprattutto che si guardava e non l'economicità dell'acqua che oggi invece è il nostro obiettivo principale. L'azienda nasce come la vediamo oggi nel 1976 facendo i primi tubi, poi i tubi vanno fortunatamente attaccati l'uno con l'altro e allora siamo riusciti a fare anche la parte di prodotto che è per mettere assieme i tubi. L'azienda da pochi dipendenti subisce una grande trasformazione negli anni Ottanta, quando nasce la società che si chiamava Sivlast, nasce anche la Iritec e qui cominciamo a fabbricare questi raccordi e cominciamo ad esportarli. Diciamo che avendo avuto il prodotto che è in mano siamo riusciti a portarlo in giro per il mondo. Ora qui nascono anche la parte di ricerca e sviluppo in quegli anni, negli anni ci siamo accorti che oltre al tubo l'acqua era un bene che era importante, prezioso e che cominciava a essere necessaria anche a una gestione economica ed efficiente. Il prodotto nell'azienda è stato sempre il nostro obiettivo, fare qualcosa che gli altri non fanno secondo me è una delle cose che contraddistinguono anche l'innovazione. Il raccordo non è un'invenzione recente, però ancora oggi giorno per giorno ne sviluppiamo sempre di più per farli sempre meglio e farli funzionare e magari costare meno, che è l'obiettivo economico importante. Cominciamo a sviluppare questi sistemi gocciolanti, cominciamo a importare ma soprattutto a fare brevetti. Questo è stato un passo enorme perché è riuscito a fare qualche cosa che non esisteva prima o perlomeno qualcosa che migliorava le condizioni attuali, dello stato dell'arte. Questo è stato un passo importante, qui siamo riusciti poi a, oltre a fabbricare e distribuirlo in Italia, ci ha aiutato tantissimo a pubblicizzare e fare del nostro prodotto un prodotto ricercato e apprezzato in giro per il mondo. Questa possibilità, diciamo, di costruire un prodotto in Sicilia è stata molto importante perché qui abbiamo avuto la possibilità di sperimentare sul territorio quelle che erano le nostre tecniche. Credo che le doti importanti siano la voglia di fare qualche cosa, di avere nelle mani, ma potrebbero anche essere su un pezzo di carta, qualcosa che uno ha immaginato e potuto e saputo realizzare. Una delle cose che sicuramente mi sento orgoglioso e che mi congratulo anche da solo è quello di avere avuto dei ragazzi che mi hanno tanto aiutato e assieme a loro abbiamo fatto delle cose meravigliose nel campo proprio della ricerca della tecnologia di soluzioni che sono importanti per la produttività e per la produzione di manufatti in plastica.